Capo d'Arca e i giovani prima del futuro è un documentario che racconta la vicenda e la storia di una delle comunità più importanti che ci sono in Italia. Quella fondata da Don Franco Monteriubianesi nel dicembre del 1966 a Capo d'Arco di Fermo. Don Franco era un giovane sacerdote marchigiano che aveva un sogno, quello di poter integrare i disabili nella società. E questo sogno è diventato realtà proprio nel dicembre del 66. Don Franco è stato il primo a sposare tre coppie di disabili nell'agosto del 1970, sempre a Capo d'Arco di Fermo, perché all'epoca si credeva che i genitori disabili potessero generare figli disabili. Don Franco è stato quindi un rivoluzionario cristianamente parlando. È un uomo che è riuscito a creare con sacrificio e spirito di abnegazione ben 28 comunità in Italia e altre comunità e case famiglia nel mondo. Il concetto di Don Franco è uno, quello di riuscire ad integrare giovani disabili fisici e psichici nel mondo del lavoro. Ha iniziato con la ceramica, Capo d'Arco ha continuato con l'elettronica ed oggi ci sono varie realtà che fanno agricoltura sociale. La natura non giudica, è solito dire Don Franco, e quindi la natura produce perché il giovane dà amore. I giovani disabili di Don Franco sono persone che danno amore alla terra. La comunità in cui vive oggi Don Franco si trova a Grottaferrata, alle porte di Roma, però le realtà che Don Franco sta portando avanti sono ancora tantissime. Non ultima il sogno di Genzano, sempre vicino a Roma, è il sogno di creare presto una comunità negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che sembrano essere la patria della democrazia, del progresso, ma che semmai sono ancora un po' in ritardo su quelle che riguardano le politiche di disabilità. Don Franco vorrebbe aprire una fondazione negli Stati Uniti e questo documentario si chiama Prima del Futuro, perché proprio prima del futuro, il futuro sarà creare questa comunità eventualmente negli Stati Uniti, Don Franco sta combattendo e sta lavorando con tutti noi all'età di 85 anni, quindi giovane tra i giovani, per creare un futuro per le politiche sociali e soprattutto un futuro a tanti ragazzi disabili. Sono orgoglioso di poter coordinare i lavori di questa giornata che prevedono la proiezione di questo documentario film dello scrittore e regista Luca Guardabascio su questa meravigliosa realtà nazionale che si occupa sostanzialmente di soggetti svantaggiati in proiezione dell'attività lavorativa. Una realtà che quest'anno compie 50 anni e che consta di ben 28 strutture in tutta Italia, che sono comunità che hanno al loro interno soggetti che poi fra di loro si sono sposati, hanno fatto famiglia e vivono ancora insieme agli altri perché ognuno di loro sia portatore sano di vita e di felicità. Quindi una bellissima realtà che oggi ho l'onore di presentare e anche insieme alle strutture palermitane che si occupano di soggetti svantaggiati che sono il fiore all'occhiello della nostra città e che noi siamo veramente felici di poter ospitare oggi in questa bellissima realtà associativa. Oggi mi trovo qui a dare sostegno a questa associazione che si occupa appunto di promuovere la nascita, promuovere più che altro il documentario che si occupa della nascita di queste comunità per disabili, dove i disabili hanno la possibilità di trovare anche un impiego lavorativo. Sono presidente di un centro di riabilitazione, questo è a Nire di Palermo, il primo centro che è nato a Palermo e si dedica esclusivamente all'ippoterapia per disabili. Questo centro nasce dall'esigenza di dare ai nostri ragazzi e bambini disabili di Palermo un centro specializzato dove poter fare delle terapie specifiche con il cavallo. Il cavallo è utilizzato come strumento terapeutico e quindi delle vere e proprie terapie peramediche. Io vorrevo testimoniare dicendo che ognuno di noi con la propria esperienza, con il proprio lavoro, può comunque contribuire in questo settore dando la possibilità ai disabili di trovare non soltanto un inserimento sociale ma anche un inserimento nell'ambito lavorativo.